buongiorno buona gente buona domenica questo cordiale saluto vi giunge dagli studi di etv per la nostra vostra rassegna stampa questo 19 di novembre che vivremo insieme nella parte iniziale della giornata fino alle 9 30 poi anche in riproposizione alle 13 30 e 14 30 sia come sia un buongiorno e una buona domenica per tutto il giorno che domenica sarà cominciamo subito con il racconto di questo meteo domenica con freddo e temperature invernali ma con una giornata di sostanziale sole questo lo annuncia e lo promette il meteo punto it ecco anche però le temperature che come detto subito saranno importanti saranno un po croc questa mattina presto sulle marche nella zona del capoluogo regionale vi posso assicurare che faceva particolarmente freddo minimi attorno ai 4 gradi conferma anche il meteo punto it tra le varie province quella più freschina sarà proprio quella di ancona ma simile molto simile il meteo per il fermano per il maceratese 5 gradi la minima 6 7 gradi tra ascoli e pesaro le massime invece quindi a metà giornata il clima cambierà nettamente con temperature piacevoli fino anche quasi ai 20 gradi centigradi di ascoli piceno cominciamo come sempre la nostra rassegna stampa domenica compresa con il sito di etv il nostro sito dal quale trovate certamente le notizie ma anche i video gli approfondimenti le trasmissioni e allora in primo piano per petriolo tema ricostruzione altri 4 milioni di euro per il centro storico un centro meraviglioso come vedete da questo scorcio da questa immagine per la ricostruzione arrivano altri denari sarà è scomparsa un appello che raccogliamo anche noi di etv papà cosimo tomassini chiede aiutatemi a ritrovarla un suo disperato appello condiviso su facebook da oltre 8 mila persone per ritrovare la figlia sarà a 35 anni scrive il babbo sui social è scappata dal reparto psichiatria del muraglia di pesaro dove era ricoverata da venerdì mattina alle 10 e 30 è in grave pericolo di vita chi seguisse il programma e potesse dare un aiuto a questa famiglia e a questa ragazza ne saremo assolutamente riconoscenti anche noi di etv a proposito di persone scomparse di vite sospese ahimè ne avrete sentito parlare purtroppo è terminato nel peggiore dei modi il tentativo di ritrovare la povera giulia picchiata accoltellata al collo e al volto giulia trascinata per 50 metri nel dirupo tanti stanno chiedendo di evitare di trattare il tema di non dare particolari così macabri signore e signori bisogna parlarne perché bisogna che noi soprattutto mi permetto genitori entriamo nella forma mentis che queste cose possono succedere alle nostre figlie e che queste cose le possono commettere i nostri figli dobbiamo trovare assolutamente un punto di caduta educativa dal quale poi si possano lanciare messaggi allora sì davvero completamente diversi per giulia e per le giulia oggi in pericolo dobbiamo assolutamente parlare di questo terribile epilogo buongiorno a chi ci sta seguendo chiaramente non è una notizia marchigiana ma riguarda tutta italia perché giulia deve davvero essere considerato un po la figlia di tutti noi oggi ma il core business è la nostra informazione locale allora francesca buongiorno cristian buongiorno paolo buongiorno ieri pomeriggio quando intervistavi brunelli eri bello munto be grazie ma è merito del vestito di solito in questi casi e chissà sa si pontina pappalardo buongiorno una firma che non avevo sentito prima mai mi fa piacere michela a venatura a quattro gradi a confermare del freschino marinella giampieri buongiorno e buona domenica grazie anche chi ci manda il messaggio con anche la provenienza geografica venatura quattro gradi ad ancona diminuiscono gli incidenti ma non le vittime un'interessante indagine che vi proponiamo sul sito di etv più incidenti più feriti più vittime il 22 ha segnato una ripresa ahimè in salita negativa per quanto riguarda la sicurezza sulle strade negli anni del covid era inevitabilmente calato il numero e degli incidenti e delle vittime in questo caso la situazione purtroppo sta tornando serie il 2 dicembre al via il natale di ancona sul palco la band di maurizio mattioli che canterà califano questa un'anticipazione che trovate oggi sul giornale anche il claim diciamo la frase ad effetto della natale di ancona sarà quest'anno ancona che brilla la meraviglia del natale dal 2 dicembre al 7 gennaio la quintana invece 5 notizie per 5 province la quintana che conquista milano museo vivente sui navigli e la performance di saturnino tam tam social e segnalazioni questa è la notizia che avete trovato poco fa anche sul nostro sito ma Sara Tomassini ancora non si trova uscita scappata abbiamo letto poco fa dal nostro sito da muraglia la segnalazione del babbo che chiede aiuto disturba il guardalinee con un bengala d'aspo di due anni ad un tifoso di porto san giorgio aveva acceso un bengala maneggiandolo pericolosamente tentando con le scintille di colpire il guardalinee che si trovava vicino al luogo dove lui seguiva la partita ma pensiamo al calcio a divertirci dai altrimenti il gioco finisce prima di cominciare burocrazia l'odissea degli argentini per ottenere la cittadinanza italiana ecco il percorso al comune di macerata che tenta e promette di essere un percorso con il minor numero possibile di ostacoli vado a salutare anche coloro che ci seguono tramite whatsapp sebbene nella diretta della domenica non compaia il numero perché è la versione che fa riferimento ai 30 minuti poi riproposti però ci sono comunque amici amici che hanno il numero memorizzato e che anche se non si vede lo hanno a memoria oppure lo hanno sul cellulare per cui buongiorno oggi si andrà a pranzo al castello di frontone in 26 grande festa con i parenti cagliesi ah bene bene grazie cara natalia di questa segnalazione mangiate gozzovigliate anche per me serena domenica la redazione di etv ai marchigiani tutti da castella raimondo la mattina loro in bocca in questo caso ha il rosa in bocca ciao da marta che bello un abbraccio anche alla comunità di castella raimondo che conosco bene e che so conosco il cuore della comunità di castella raimondo a proposito di cuore ieri sera ho avuto il grande piacere dopo la scorpacciata di gusto e di sorrisi a ciocomarche questa sera ultima giornata un pomeriggio che concluderà i salotti del gusto se avrete piacere ci ritroviamo in piazza cavur grazie a confartigianato in presa ancora pesa l'orbino ieri sera a chiaravalle in questo luogo meraviglioso che ha dato i natali a maria montessori che ha raccontato la storia delle sigaraie in tutto il mondo la capacità delle sigaraie di combattere per i diritti anche delle donne e oggi il tema è attualissimo e poi anche la bellezza l'eleganza di gisa straordinaria interprete della moda tradotta nella qualità artistica e sportiva di sofia raffaelli questo è stato un po il percorso che abbiamo vissuto ieri io qua ho accanto a me e ho promesso anche agli amici di chiaravalle che avrei mostrato ho proprio maria montessori qua accanto al nostro giacomino leopardi al monte conero mi sono fatto mettere proprio la montessori come segno e simbolo dell'eccellenza italiana nel mondo ma ci arriveremo alla montessori intanto dovrei avere anche la mille lire guardate un po sì sì ce l'ho la mille lire montessoriana qua come sempre sempre come il pizzino per saltare le liste d'attesa invece torniamo ai giornali è quello che racconta il carlino uno svela una nostra lettrice il cup mi aveva fissato la visita a febbraio basta chiamare i numeri giusti questa la frase sibillina che se fosse vero sarebbe veramente scandaloso se paghi sotto banco hai una precedenza rispetto alla sanità sarebbe mostruoso verificheremo vietare la carne sintetica è inutile tempo perso per non affrontare i veri problemi degli allevatori l'intervista al presidente di confagricoltura marche su un tema che è diventato di stringente attualità i disegni dei disabili etichette per il vino la bella storia del volo della libellula i disegni dei anche piccini diversamente abili che sono diventati etichette 349 39 18 169 per gli eventi le mose pronte a ridere arrivano pio e amedeo il duocomico pugliese domani sarà sul palco questo per un paio di notizie tre legate ad ancona e provincia andiamo a sfogliare girando le marche anche attraverso di voi quindi ripasso per il cielo rosa di castel raimondo vado ad ascoli e provincia stadio impianti il piano l'assessore stallone dopo la nomina di ascoli città europea dello sport gongola e dice ci saranno tanti benefici intervista ora al candidato del centro sinistra nardini e la sfida a fioravanti portiamo un cambiamento i cittadini saranno di nuovo protagonisti anche ad ascoli come a pesaro a urbino a fano si voterà l'anno prossimo melosso miglior cavaliere d'italia il premio all'ascolano intanto la quintana si mette in mostra a milano melosso diciamo il talento migliore che l'italia esprima in termini di eventi come questo macerata e provincia rapidissimamente sbloccheremo parte del cantiere palazzi da demolire il commissario castelli rassicura sul maxipiano ostaggio di un pignoramento e poi la storia dolorosa da civita uccisa da una malattia a 31 anni le operazioni furono inutili mana ha avuto ragione però da morta per il tribunale gli interventi non erano aderenti ai protocolli lei purtroppo non c'è più ma potrà avere giustizia il suo ricordo il maestro vetraio viaggio nel laboratorio sempre dal carlino maceratese di mauro puccitelli il professore di apiro apirano ho imparato dai grandi artisti di murano col vetro non puoi mentire basta un errore e va in frantumi un po come dovrebbe essere nei rapporti umani l'alba sul mare vita e vista da potenza piccena buona domenica a tutti da slobodanka jankovic si vede si vede un pochettino di mare si vede soprattutto questo meraviglioso scenario che sta dietro il mare sinner ci sta entusiasmando la sua è la storia di un ragazzo normale che diventa un campione oggi potrebbe stupirci ancora ci scrive saverio è oggi alle 18 se non sbaglio tutti fissati davanti allo schermo io non avrò questa fortuna avrò l'altrettanto la fortuna di trovarmi in un posto meraviglioso a stuzzicare il palato di cioccomarche però per chi potrà davvero tifo che merita un po zoff un po del piero così viene definito sinner un po tenente colombo vi spiego il messaggio di sinner lo scrittore veronesi esaltato da jannic finale con giocovic che lui avrebbe potuto eliminare perdendo con un altro per via della classifica e invece no ha vinto il suo match ha permesso a giocovici di arrivare in finale non prima delle 18 in vendita altri 300 biglietti tutto esaurito il palazzetto di torino forza jannic sinner ci auguriamo che giocovici è fortissima ma sinner è il nostro sinner mi farebbe piacere se facesse ascoltare questi fantastici doppiatori marchigiani sulla vittoria di sinner su novak giocovici grazie ci proviamo magari nella finale di questa nostra rassegna stampa che passa attraverso l'ultimo giornale che mancava del carlino e poi andiamo alle edizioni del corriere con il carlino di pesaro chiudiamo tutto il percorso delle marche secondo questo giornale che vede in primo piano la maxi truffa e l'avvocato condannato quattro anni a legale l'accusa e aver fatto sparire 750 mila euro dal conto di una ricca 75enne pesarese l'avvocato è stato condannato ricci e il suo pane e politica vinceremo le elezioni perché nessuno ci dividerà il sindaco promuove il suo libro presentata la lista vieni oltre poco fa ad ascoli ascoltavamo l'intervista rilasciata dal candidato che se la vedrà con fioravanti parlo di nardini ascoli a pesaro stesso clima anche a pesaro se andrà al voto come dicevamo pane e politica la convinzione dirici del successo del centro sinistra se avete opinioni su questo fatemi sapere prima di completare il giornale per il pesarese franca buongiorno buona domenica sandiran buongiorno patrizia buongiorno un'altra giovane vita spezzata un abbraccio alla famiglia grazie patrizia per questo tuo pensiero roberta buona domenica e sì perché per chi si fosse collegato da poco e non lo avesse ma ne parlano doverosamente tutti i giornali non l'avesse saputo la ragazza che era scomparsa in circostanze troppo troppo drammatiche ahimè l'epilogo che tutti temevamo è diventato realtà picchiata coltellata al collo e al volto giulia trascinata per 50 metri in un dirupo dov'è filippo a proposito di chi chiede effettivamente anche questo che fino a fatto il l'ex fidanzato non il fidanzato la famiglia ci tiene a ricordare anche questo ecco la strada che ha fatto di lui si sono perse le tracce anche i genitori di filippo a cui alcuni stanno mandando anche messaggi molto molto pesanti hanno chiesto anche i genitori di filippo il presunto assassino gli hanno chiesto di tornare a casa e di riconsegnarsi alle forze dell'ordine siamo in diretta chissà che non si possa ricevere in tempo reale questa informazione natale show apre mattioli il 2 dicembre sul palco di piazza roma l'attore canta califano un tributo al mio grande amico centro pieno i commercianti sperano nella rilancio il mare deve essere il brand di ancora questo è l'appello di guidi bolkenstein rischia pure uliassi incredibile ma vero concessioni nel mirino della direttiva ue fresco delle tre stelle michelin uliassi eccellenza internazionale della cucina rischia di perdere la concessione lettera ai genitori violenti qui si parla di sport dell'altra faccia dello sport un premio ai baby calciatori panichi della figici dopo la rissa alla gara dei giovanissimi ragazzini fantastici meritano un riconoscimento perché hanno visto il casino che si stava verificando sugli spalti e si sono fermati un premio ai baby calciatori della portuale idorica che dopo la rissa tra genitori sugli spalti li hanno rimproverati con una lettera è l'intento della figici marche per riconoscere il comportamento virtuoso l'angona a proposito di calcio che batte la recanatese doppietta di spagnoli risultato 2 a 0 così risponda anche a chi mi chiedeva dettagli sull'ancona buongiorno buongiorno tv buon lavoro e buona domenica a tutti da angelo di acqua santa terme grazie caro angelo e proprio in zona centro sud di ascoli mi sposto dopo l'edizione per ancona e provincia ascoli e san benedetto anci fioravanti presidente raccoglierà il testimone di calcinaro che è sindaco di fermo l'elezione sabato 25 durante l'assemblea dell'associazione quindi il nuovo presidente dell'anci marche anci significa associazione nazionale comuni italiani quindi l'associazione che unisce al di là dei colori politici tutti i sindaci dei territori avrà come presidente il sindaco di ascoli giù le mani dalle nostre spiagge l'unione europea cibacchetta balneari in rivolta stringe il tempo perché entro pochi mesi la bolkenstein dovrebbe diventare realtà e allora cominciano le vere preoccupazioni e gli appelli prelievo multiorgano a san benedetto si parla di sanità l'ultimo atto d'amore è stato effettuato all'ospedale di san benedetto grazie alla generosità dei familiari della vittima un prelievo multiorgano effettuato all'ospedale di san benedetto sono stati spiantati fegato reni e corne da un donatore dopo l'ok dei familiari ecco si può decidere finché siamo ed è un dono ed è una fortuna in vita si può decidere di compiere questo gesto di grande generosità perché è un po come un testimone di vita che viene messo nelle mani di persone in difficoltà anche un po per evitare il dolore lo strazio di chi resta nel momento in cui tutti quanti noi avremo altro da fare ed altri luoghi da visitare perché no magari luoghi celesti evitiamo lo strazio di chi ci ha perduto di dover dire sì no sulla donazione possiamo farlo finché siamo presenti a noi stessi diventiamo donatori basta una piccola firma sul documento anche di identità io per esempio sono donatore di organi quando sarà il momento adesso per adesso finché mi fanno comodo me ritengo ma quando sarà il sangue già lo dono è perché quello si si rifà costantemente quindi non c'è problema fate i donatori di sangue quando sarà i donatori di organo ci tengo a lanciare questo appello fermo e il fermano non fermo tu per carità tu intanto gira Maurizio la vicenda di Giulia è una tragedia per entrambe le famiglie una preghiera per queste famiglie grazie anche a te per questo messaggio tantissimi stanno raccontando la storia di Giulia a modo loro Anna Maria buona domenica Andrea buongiorno Mirco Tocacceli buongiorno e Franca buongiorno anche a te ero pronto con il corriere per il fermano Natale si pattina in piazza iniziato il montaggio della pista di ghiaccio in centro storico un'attrattiva per i ragazzi annuncia calcinaro spazio a lirica gospel feste musicali in allestimento una mostra che verrà inaugurata da sgarbi giù le mani dalle nostre spiagge bolkenstein anche qui il tema come sul giornale per ascoli e san benedetto il tema è quello della bolkenstein che sta per diventare realtà disturba il guardialine c'è il daspo ad un tifoso questa l'abbiamo trovata già nella versione online con un bengala un giovane san giorgese pare volesse dargli fastidio fargli arrivare le scintille non voleva neanche farsi identificare dai carabinieri sanzionato per due anni da fermo a macerata anche qui il corriere protagonista in centro la ztl di Natale amiche e amici di macerata approvata la chiusura al traffico nei pomeriggi dei weekend per favorire lo shopping delle feste la richiesta era arrivata dai negozianti stabilito il calendario dei divieti si parte dal 2 di dicembre amiche amici di macerata comincerà il 2 dicembre la ztl natalizia in certe fasce il centro sarà riservato esclusivamente alla voglia di fare festa giù le mani dalle nostre spiagge anche le spiagge maceratesi civita novesi in particolare lanciano questo appello che trovate sul giornale intanto via libera al restyling delle ex monachette nuova vita per lo storico edificio di via armaroli posti letto per gli studenti il progetto è di urdis 349 39 18 169 ho parlato poco fa di ciocomarche oggi pomeriggio ultimo appuntamento ieri una pomeriggio di emozioni e di sorrisi grazie al grande maestro paolo brunelli e con un assaggio giustamente un viaggio dolce nel mondo di un grande cioccolatiere un percorso sensoriale alla scoperta delle eccellenze del territorio oggi a ciocomarche ad ancona il maestro paolo brunelli dico sempre che la gastronomia qualche volta ci dimentichiamo che è cultura la cultura anche saper raccontare i personaggi che gravitano intorno agli ingredienti che siano nocciole il latte un formaggio o un dolce insomma in qualche maniera quindi occasioni come queste rimarcano il fatto di che abbiamo la possibilità di parlare di cultura gastronomica ma che in realtà è una cultura tutto tondo l'avanguardia e la ricerca si legano alla tradizione la passione quel qui di in più l'artigianalità quel motore che anima creazioni golose non vorrei ossessionare le persone con la ricerca dell'ingrediente perfetto che quello sta stanno i professionisti farlo noi sta comunicare una cosa buona quando è buona e che ci fa bene che ci accoglie che ci fa una coccola quando abbiamo necessità che non ci faccia star male brunelli è stato ospite di confartigianato imprese ancona pesaro urbino per la ventiduesima edizione della rassegna ciocomarche realizzata in collaborazione con il comune di ancona e la camera di commercio delle marche tra prodotti in vetrina delle aziende coinvolte degustazioni laboratori e cammini enogastronomici l'iniziativa proseguirà fino a domenica 19 novembre l'obiettivo è proprio quello di portare in piazza dei professionisti che lavorano secondo l'eccellenza e abbinare la parte di degustazione al racconto e anche alla dimostrazione del saper fare di questi artigiani e insomma se vi è venuta voglia insomma di cioccolatare un pochettino è questo poveriggio ultimo appuntamento non solo con i salotti del gusto ma anche soprattutto con la kermesse di ciocomarche in piazza cavur manca un giornale solamente allora il food a proposito che traina nuove attività in città a pesaro siamo con il corriere di pesaro infatti nel settore ristorazione e degli alloggi negli ultimi dieci anni ci sono 100 imprese in più nonostante il rischio della desertificazione dei centri storici regge anche il commercio in dettaglio arrestato a pesaro una diciassettenne ricercato per furti pensate commessi in francia sanità pesaro privilegiata salta martini cerca gli alibi l'assessore mascarin da fano fano che lamenta una mancanza di attenzione su questo tema sanità appunto critica la politica della regione fanno ancora una volta penalizzata per l'ospedale a proposito di pesaro di ospedale rinnovo l'appello che il babbo di questa ragazza ci ha rivolto sarai scomparsa aiutatemi a ritrovarla l'appello di papà cosimo tomassini un sos disperato quello di papà cosimo condiviso su facebook da oltre 8 mila persone per ritrovare sua figlia Sara aveva a 35 anni scrive sui social il babbo è scappata dal reparto psichiatria di muraglia pesaro dove era ricoverata venerdì mattina alle 10 e 30 è in grave pericolo di vita il padre della ragazza d'italia indossava una felpa blu con cappuccio un pantalone di tuta grigio un paio di ciabatte crocs capelli castani chiari e lunghi probabilmente raccolti un sorriso che speriamo possa essere presto rivisto dal babbo che ha mandato questo appello se aveste informazioni rivolgetevi pure anche alla nostra emittente che le inoltrerà alla famiglia e alle forze dell'ordine meglio ancora contattare le forze dell'ordine chiaramente Antonietta buongiorno Quartina buongiorno Mirella buongiorno sarà un buongiorno sì sarà un buongiorno freschino croccantello però bello fa anche rima temperature minime per esempio per la città più fresca delle marche oggi proprio in provincia di Ancona tra 4 e 17 gradi nella zona di Ascoli fermo e macerata siamo lì la città più tiepidina della regione sarà Pesaro e il pesarese con temperature tra 7 e 17 gradi ultima scorpacciata di notizie ringraziando ancora e salutando chi ci sta mandando immagini 4 gradi da Casine di Ostra l'amica Serenella condivide questa informazione oltre che la foto bentornato Maurizio buona domenica da Bruna di Trecastelli il sabato è l'unico giorno della settimana nel quale lascio volentieri spazio ai colleghi che come e meglio di me sanno accompagnarci tra le notizie andiamo rapidamente task force per l'evaso Federico Marcelli l'appello delle sue vittime deve tornare in carcere poi Ancona che spera nella scossa delle festività si punta ancora sugli eventi c'è il dialibera a macerata per la ZTL a Natale racconteremo tutto meglio state con noi grazie grazie grazie